Jason, che cos'è questo? Arrabbiato! Bene, Jason! Che cos'è questo? Triste! Bravo, Jason! E questo? Dormire! No, non è dormire! Che cos'era? Oh no! Oh no! Jason, attento! Oh no! Oh no! Jason, attento! Stai attento, Jason! Aiutami! Jason, oh no! Mi oddio di là! Dov'è di là? Jason, dove sei? Jason, Jason, dove sei? Jason! Jason! Oh no, Jason! Forza, lascialo andare! Oh no! Vieni qui, brutto alieno! Vieni qui! Ehi! Vieni qui, Jason! Oh no, alieno! Vieni qui, lascialo andare! Hai capito bene? Oh no! Vieni qui! Vieni qui! Lascialo andare, è pericoloso! Spero che Sara lo prenda, sì e come! Ragazzi, avete visto Jason? Jason, dove sei? Ragazzi, dov'è Jason? Oh, Jason, fermati! Fermati, Jason! No, no! No! Fermati! Vieni qui! Aspetta, aspetta! Era solo uno scherzo, Sara! Eh? Uno scherzo, cioè? Questi non sono i miei piedi! Era solo un costume! Davvero? Divertente! Ma ora torniamo in classe! Hai visto, Sara? Era solo uno scherzo! Sì, è una bella trovata! Me l'hai fatta, Jason! Sì, proprio un bello scherzetto! Oh, no! Il gatto non ha cibo! Oh, no! È vuoto, ragazzi! Ha bisogno di acqua e di cibo! Ho preso l'acqua ed il cibo per il gastino! Perfetto! Proprio un sacco di cibo! Ragazzi! Ma dov'è il gattino? Gatto? Dove sei? Cavoli! Non c'è più! Oh, no! Gatto piccolino, dove sei? Gattino, mi senti? Dove sei? Gattino! Mi sa che dovrò chiedere ad Alex! Sì, che bello giocare! Sto vincendo! Che bello! Sto vincendo! Sì, 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 sì! Oh, chi è? Andiamo a vedere! Spero che ci sia Alex a casa! Ehi, Jason! Che succede, amico? Ho perso il mio gattino! Cosa? Davvero l'hai perso? Puoi aiutarmi a trovarlo? Ma certo! Cerchiamolo! Gattino mio! Dove sei? Gattino, dove sei? Gattino! 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 Dove sei? Gattino! Gattino! Dove sei finito? Alex, ho un'idea! Perché non mettiamo dei cartelli per la città? Ottima idea! Ne prenderò un po'. Ed ecco qua i cartelli da avvigere! Jason, è questo quello che ti serve? Ma quello è un cagnolino! Ci serve un gattino! Oh, oh, oh! Ok, arrivo! Jason, è questo quello che ti serve? Ah, ma quella è una mucca! Ci serve un gattino! Oh, scusami! Che cosa non capisci? Gattino, c'è il cibo per te! È questo che ti serve? Sì, è esattamente quello che mi serve! Molto bene! Uno per te, un altro in più per te... E adesso possiamo andare! Gattino, dove sei? Dove sei? Beh, mettiamo un cartello proprio qui! Gattino smarrito, chiamare uno, due, tre! Gattino! Gattino! Dove sei finito? Gattino! Gattino! Gatto! Gattino! Dove sei? Mettiamo un cartello qui sopra! Ok, mettilo lì! Si vede molto bene! Micio! Micino! Micetto! Micetto! Alex, stiamo andando troppo piano! Ok, mettiamo tutti i cartelli lì sopra! Forza! Tutti lì! Uno! Due! E tre! Così va meglio! Gatto! Gattino! Micetto, dove sei? Micetto! Gattino! Dove sei? Abbiamo messo i cartelli per te! Dove sei? Alex, sai, ho un'idea migliore! E qual è la tua idea? Oh, grandissima idea, Jason! Andiamo! Vendiamo dog! Vendiamo dogs! Vendiamo dog! Chi vuole dei buonissimi dogs? Un gatto vuole degli hot dogs? Quale micetto vuole degli hot dogs? Ehi! C'è un micetto! Eccolo qui! È il mio micetto! Il piano ha funzionato! Sì! Abbiamo ritrovato il gattino! Ehi! 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 Ehi!